Freddy Krueger, il famigerato antagonista della serie Nightmare, rappresenta un personaggio complesso e disturbante, la cui psiche è un enigma affascinante ma allo stesso tempo terrificante. Per comprendere appieno la sua natura è necessario analizzare il suo background traumatico, le sue pulsioni sadiche e il suo sadismo onirico. Siccome in questa analisi psicologica ci addentreremo sempre con il massimo tatto e rispetto in temi estremamente sensibili e delicati, invito le persone più sensibili e impressionabili a non guardare il video. Ripeto una seconda volta, siccome in questa nostra analisi psicologica ci addentreremo sempre con il massimo tatto e rispetto in temi estremamente sensibili e delicati, invito le persone più sensibili e impressionabili a non guardare il video. Detto ciò possiamo procedere. L'infanzia di Freddy è costellata da eventi tragici e abusi che hanno forgiato la sua personalità distorta. Nato da una madre e suora che è stata violentata in un manicomio e cresciuto da un padre adottivo violento ed alcolizzato, Freddy ha subito bullismo e maltrattamenti fin dalla tenera età. Questi traumi hanno generato in lui un profondo senso di impotenza, senso di rabbia, frustrazione e risentimento verso il mondo, alimentando una sete di vendetta che si manifesterà completamente ed interamente in età adulta. L'animo di Freddy è intriso di sadismo e di crudeltà. Già da bambino torturava e uccideva piccoli animali, ovvero esseri indifesi come lui, manifestando una predisposizione alla violenza e una totale assenza di empatia. A 19 anni, Freddy Krueger, già segnato da un'infanzia traumatica e abusi, uccide il proprio padre adottivo con un rasoio. Questo evento rappresenta un punto di svolta nella sua psiche, dando inizio al suo regno di terrore a Springwood. L'omicidio del padre adottivo rappresenta anche un punto di non ritorno e di rottura nella psiche di Freddy, sancendo la sua discesa verso la malvagità. Poco dopo inizierà a lavorare in una fornace, un luogo intrinsecamente caldo e pericoloso, che rappresenta una manifestazione simbolica del fuoco che arde dentro di lui. Qui Freddy non solo forgia le sue armi di tortura, ma medita la sua vendetta contro la città di Springwood, simbolo di un mondo che lo ha emarginato e traumatizzato. Il rapimento, la tortura, gli abusi e l'uccisione dei figli dei suoi ex compagni di scuola sono atti efferrati che rivelano la profonda crudeltà e la mancanza di empatia di Freddy. La sua mente sadica trova piacere nell'infliggere dolore e sofferenza, come dimostrato dalle sue elaborate armi e dall'utilizzo del furgoncino di gelati per attirare le sue vittime. Freddy mostra al mondo una doppia facciata, se danno a parte in segreto un serial killer, nell'immagine pubblica è un normale padre di famiglia sposato e con una figlia. La sua capacità di mantenere una doppia facciata suggerisce una profonda disconnessione tra la sua identità pubblica e quella privata. Il suo comportamento, oltre ad indicarci una forte dissociazione presente in Freddy, può indicarci un disturbo antisociale di personalità che si caratterizza per una mancanza di empatia, un comportamento manipolatorio e un disprezzo per le norme sociali. La sua vita familiare apparentemente normale potrebbe essere un tentativo di nascondere anche a se stesso i suoi istinti violenti e disturbanti, alimentati anche da un profondo vuoto interiore e da una mancanza di autostima. Il desiderio di Freddy di avere una moglie o una figlia potrebbe essere un desiderio genuino, che viene costantemente ostracizzato e minato dal mostro che risiede dentro di lui e che è guidato dai suoi traumi. La scoperta della doppia vita di Freddy da parte della moglie rappresenta un momento di svolta nella storia. La sua innocente curiosità la porta a svelare un orrore inconfessabile. Gli attrezzi del mestiere e l'album con le foto dei bambini uccisi sono la prova inconfutabile della natura malvagia di Freddy. La reazione di Freddy alla scoperta è immediata e violenta. Accecato dall'ira, uccide la moglie davanti alla figlia. Questo atto di efferata crudeltà non solo dimostra la sua instabilità emotiva, ma ci rivela anche la sua rabbia e il suo dolore per aver compromesso la sua vita familiare, distruggendo quel poco di buono che aveva creato nella sua vita, che lo rendeva seppur minimamente umano. La figlia, testimone involontaria dell'omicidio della madre e della vera identità del padre, subisce un trauma psicologico devastante. L'obbligo di mantenere il segreto imposto da Freddy aggiunge un ulteriore peso al suo dolore. La sua infanzia le viene strappata via e ciò lascia lo spazio ad un senso di terrore e solitudine che la accompagnerà per l'intera durata della sua vita. Poco dopo, Freddy verrà arrestato e processato, tuttavia per un vizio di forma, ovvero per un errore giudiziario, non subirà alcuna condanna. I genitori delle vittime, spinti dalla rabbia e dal dolore per l'ingiustizia alla beffa subita da parte dello Stato, decidono di farsi giustizia da soli, uccidendo lo stesso Freddy, che davanti alla loro rabbia e dolore non si pente, non chiede scusa, ma anzi ride. Possiamo vedere la sua risata come una totale mancanza di empatia e di senso di colpa, come sfida e provocazione, come espressione di una malvagità intrinseca, ma anche come scarico tensionale. Una interpretazione psicologica più profonda potrebbe anche rivelare la sua risata come sintomo di una profonda sofferenza interiore, che maschera e nasconde la sua disperazione, il suo dolore inconscio e la sua rabbia verso il mondo, ma anche verso il mostro che vi è dentro di lui e che ha governato tutta la sua vita agendo sui suoi traumi. Il mostro dentro di lui, desideroso di un potere superiore, stringerà un patto contro i demoni. Questo patto rappresenterà la discesa completa di Freddy nelle tenebre e il suo completo osservimento al male. I demoni gli offrono la vendetta che desidera, ma lo imprigionano anche nella dimensione onirica, un luogo di sofferenza e di terrore. Il patto con i demoni può essere visto anche come metafora del potere corruttore della vendetta e del male, nonché come la totale perdita della propria anima e umanità. Freddy diventa un fantasma che controlla la dimensione onirica, un luogo vulnerabile ove le sue vittime sono indifese. Il sogno stesso diventa quindi un campo di battaglia, ove Freddy può tormentare e uccidere le sue vittime, alimentando la sua sete di vendetta e di potere. Il controllo del sogno rappresenta un'estensione del sadismo di Freddy, che ora può torturare le sue vittime in un ambiente completamente sotto il suo controllo. Freddy si nutre della paura delle sue vittime, diventando più forte e invincibile quando esse sono terrorizzate. La chiave per sconfiggerlo è quindi affrontarlo con coraggio e razionalità, liberandosi così facendo dalla sua paura e dal suo potere. Metaforicamente, l'affrontare Freddy potrebbe anche essere visto per l'essere umano che lo affronta e lo sconfigge, come una vittoria sui propri demoni e sofferenze interiori, sull'irrazionalità dei propri istinti, ma anche come la vittoria della luce e della consapevolezza sulla sofferenza legata alle tenebre dei propri traumi interiori.